Alzate laterali, con manubri. In piedi, gambe leggermente flesse, e busto diritto. Braccia lungo i fianchi con i gomiti leggermente flessi. I manubri sono allineati verticalmente con le spalle. Senza cambiare l'angolo dei gomiti, e mantenendo il busto diritto, sollevare i manubri fino ad allinearli orizzontalmente con le spalle. Fermando i manubri ad altezza spalle, eviterete di spostare il carico di lavoro su altri gruppi muscolari. Ritornate alla posizione di partenza.